È previsto un cast stellare per Ballando con le stelle 2024, Milly Carlucci ha portato a segno dei veri e propri colpacci Scopriamo assieme quali sono.La conduttrice del dance show del sabato sera di Rai Uno più amato dagli italiani si troverà in squadra nel programma dei veri e propri pezzi da 90 Stiamo parlando di professionisti amatissimi dal grande pubblico, che mai nessuno avrebbe potuto pensare di vedere nella veste di ballerini provetti Si tratta di un programma dallo share incredibile, fin da adesso che ancora non è stata registrata la prima puntata Il cast è veramente da urlo, con la presenza di punte di diamante anche del piccolo schermo Le novità apportate allo show riguarderebbero anche la giuria della trasmissione Insomma, le news per la prossima edizione di questo dance show che ogni sabato sera tiene attaccati allo schermo milioni di telespettatori non sono poche I fan sono in trepidante attesa di sapere almeno i nomi di chi saranno i prossimi concorrenti e chi comporrà il corpo dei maestri di balli Facciamo, quindi, assieme un punto della situazione.Ballando con le stelle 2024, ecco il nuovo cast È ancora tutto avvolto nel mistero, iniziano però a trapelare alcuni rumors che darebbero per fortemente sicura la partecipazione di due donne di rilievo del mondo dello spettacolo Entrambe provenienti dall'ambiente mediaset, si tratterebbe di professioniste bellissime che hanno un'innata passione per la danza e per la vittoria Ambe due perfezioniste e molto spiritose, stiamo parlando di donne di grande fascino capaci di calamitare su di loro l'attenzione di milioni di telespettatori Il nome più gettonato al momento per entrare nel favoloso cast sarebbe quello di Belen Rodriguez, la showgirl argentina potrebbe addirittura contare sul parere positivo di Selvaggia Lucarelli Sarebbe anche per questo che l'ex di Stefano De Martino avrebbe cominciato a prendere lezioni di ballo e di tango L'altro nome su cui si sono concentrate le attenzioni della conduttrice di Ballando con le stelle Millie Carlucci sarebbe quello di Barbara D'Urso L'ex conduttrice di Pomeriggio 5 potrebbe, quindi, così fare il suo ingresso in Rai nelle vesti di ballerina Stiamo parlando di una donna che ama molto il ballo, tanto da praticare determinati esercizi di danza classica ogni mattina Ma le novità eclatanti non finiscono qua Un altro nome molto gettonato sempre del panorama femminile è quello di Big Mama, mentre per quanto riguarda la parte maschile Millie Carlucci vorrebbe nel cast del programma Massimiliano Cagliazzo, protagonista indiscusso di Mare fuori Per la giuria del dance show potrebbe aprirsi la possibilità ad ex concorrenti del programma di entrare a farne parte I nomi più probabili sembrano essere quelli di Giancarlo Magalli, Simona Ventura, Giuseppe Cruciani, Vandanare e Teo Mammucari Ovviamente questi sono soltanto rumors al momento Non ci resta, dunque, che attendere i comunicati ufficiali per averne la conferma certa Ciao!